Buongiorno, va ora in onda l'ultima puntata di Viva Rai 2, con Fiorello, Bigio e... come si chiama? Ah sì, Caciari. Ci colleghiamo con Via Asiago. Eccoci qua. Abito della prima puntata della seconda edizione e non potevamo finire da dove abbiamo cominciato. Eccoci qua, Via Asiago. Venite con me, vi ricordate? Questo è il Via Asiago. Quando facevamo i collegamenti per il Festival di Sarremo io ero così, fermo così. Poi qui, qui, c'era il glass, non ci sono questi mai. Qui facevamo tutti i balletti, proprio qui. Lì, da lì abbiamo preso la prima denuncia. Però noi siamo qui proprio per ringraziare anche voi, amici di Via Asiago, che ci avete dato tanto, veramente tanto. Bene. E poi da qui siamo partiti alla volta del fuori talico. E adesso mi rifaccio tutta la strada, Via Asiago, fuori talico. Si parte ragazzi. Vi state aspettando, siete già al fuori talico? Allora. Casco bene allacciato. Si parte. Via Asiago, fuori talico. Sicuramente questo è uno dei momenti più belli di Via Asiago, la sveglia al mattino. Girare per Roma, Roma vuota. È proprio in questo tragitto, nel tragitto che faccio da casa al fuori talico, in questo caso, da Via Asiago al fuori talico, che passo in rassegna tutto quello che dovrò fare, tutto quello che dovremo fare. C'è questa sensazione dentro di felicità, no? Come dire, sto arrivando in un posto magico, sto arrivando in un posto bellissimo. Io la chiamo l'isola che non c'è. Entrare là dentro appena arrivi al fuori talico, ci si vede tutti, ci si abbraccia, ci si saluta, ci sorride, si fa colazione insieme. E poi si comincia, cominciano le prove. Per questa cosa, che è viva lei due, una cosa sicuramente sarà indimenticabile, almeno per noi, e spero anche per chi ci ha guardato. E soprattutto, veramente il bello di trovare la gente lì davanti alla classe che ci aspetta, anzi, mi dicono che proprio questa mattina, già da mezzanotte, ci sono un sacco di persone. Ecco, ecco, siamo già nella zona classe. Ecco, sento già le prime urla. Ecco, 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 sono già qui, sono già qui, siamo arrivati, siamo arrivati, e vivere i due, e vivere i due, eccoli, 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 ciao! 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 Allora, siamo pronti, siamo pronti, allora adesso vedremo, vedremo due anni in tre minuti, due anni in tre minuti, e subito dopo la notte farà posto a un nuovo giorno, il nuovo giorno, il nuovo giorno, di vivere i due, buona visione!